Pettaglia Pettaglia è fobra Pettaglia è fobra Pettaglia è fobra C'hai contro tu? Beh, ne ho anche la schede Oggi segna Kim La mente è ancora dentro Ooooooooh Schifo! 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 Mamma mia! Ha sfondato! Mi***o è un po' grosso È mano! È mano! È mano! È mano di ranocchia! Bucchi! Checking penalty, rigore Pettaglia Mamma mia! La notizia è più bella del giorno Però queste cose Un po' lo capiscono L'ha fatta tre volte Pettaglia Pettaglia Perché Pettaglia corre? Cerenzi Prolunga di tango Cora Cora Lo spazio destro Eeeeeee Il messaggio Giano! No! Why you! Why you! No! 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 Bravissimo! Kim! Porca puttana! Non soccata di mara Oh no! Ma è zambo Per viti Timila! SEEEEEEE! Unioooooooor! VITTOR! Oh! Sì! Mello! ma sempre loro due sempre loro due allora in quadratura di qualità stiamo mangiando la pizza lasciamo perdere in quelle condizioni arrivata però la partita è ricominciata cartoni a metà lobo 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 la partita è ricocca, la scheglia, la triplica, la coppia doppietta doppietta del Messi e Giorgiano noi non scherziamo fate che Messi fate che Messi zitti zitti tre pere la scheglia la triplica in giro zitti la sparo Kavara fa più gol di Leao 14 gol 14 gol segnati di questo stanno ancora Leao no no vabbè no sto passato hai sultato dai hai segnato il petaglio no no che c'è che non hai fatto un cazzo per tutta la partita ma infatti ho stato fermo tutto il tempo ma questo sembra la stessa faccia ma è tipo Maro che fa sempre gol davanti alla porta è un favore no Maro sbaglia davanti alla porta uno la fa rivedere perché si var ma raga c'era la spinta su Rachmania eh dai ma guai ma guai guaiu la spinta proprio ma ma questa stava saltando raga stava saltando paraconi che piglia la palla è la spinta questo guaiu è da annullare ah mamma pedaglia di merda tu vuolevi esultare invece i gondi ti abbiamo fatto annullare ah 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 segnano sì proprio è vietro 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 no si spietra st SUS dita 4 a 0 4 Vitori Due di Kvara, uno di Victor e uno di Minjah e Kim Guarda il mostro Un saluto, Forza Napoli alla prossima contro la bestia nera a Firenze contro la Fiorentina e tagna di merda tu volevi esultare invece i gonne ti abbiamo fatto annullare